Nome. James Deil Ricci. Soprannome. Anchorage serial killer. Numero vittime. 5. Modus operandi. Arma da fuoco. James Deil Ricci è nato il 4 novembre 1976 ad Anchorage, in Alaska. Durante il liceo era noto per la sua formidabile prestanza atletica. Gareggiava anche con alcuni futuri professionisti, addirittura veniva invitato a cena da alcuni professionisti che lo guardavano gareggiare. Ma le cose cambiarono nel 1994. James si iscrisse all'università ma la lasciò dopo solo un semestre, entrando nel mondo dello spaccio di droga e di combattimenti clandestini tra cani. Tutto questo lo porterà all'arresto per diverse volte. Passano diversi anni dal suo ultimo arresto. Nel frattempo James si fidanza e si trasferisce in Virginia ma romperà i rapporti e tornerà così in Alaska. James, abbandonato a se stesso, incominciava ad avere deliri e chiese aiuto in strutture per igiene mentale parecchie volte. I medici probabilmente sottovalutarono la cosa e le conseguenze non tardarono ad arrivare. Il serial killer si aggirava per parche e piste ciclabili di notte, in cerca di prede. È il luglio 2016. Brianna Foisi, 20 anni, e Jason Mnether, 41 anni, furono uccisi in tarda notte a colpi d'arma da fuoco in una pista ciclabile. Brianna era una senza tetto mentre Jason era noto alle forze dell'ordine per problemi di droga. 29 luglio 2016. Trevo Kindle Thompson, 21 anni, figlio dell'amico d'infanzia di James, fu ucciso mentre tornava a casa in bicicletta da lavoro. Due ragazze videro il killer a girarsi tra i boschi prima di sentire lo sparo. L'assassino tornò a casa con la bicicletta della vittima. La polizia, a corsa sul posto, interrogò i testimoni e, grazie a loro, stilarono un disegno facciale del presunto assassino. 28 agosto 2016. Kevin Turner, 34 anni, e Bryant D'Eusson, 25 anni, furono uccisi nel parco Valle della Luna. L'assassino seriale svuotò l'intero caricatore contro Bryant. Anche in questo caso i proiettili corrispondevano con quelli trovati nei precedenti delitti. Era caccia al serial killer dunque. FBI offrì una somma di 10.000 dollari a chi avrebbe portato prove importanti per la cattura dell'assassino. La cittadina stava iniziando a preoccuparsi tanto che fu organizzata una task force. La madre di Thompson, la terza vittima, decise di condurre un'indagine personale per catturare l'assassino di suo figlio, girovagando per le zone frequentate da Senzatetto e altri quartieri poveri. Una notte vide James, a girarsi armato con fare sospetto. Avvertì subito il tenente il quale andò ad arrestarlo ma l'assassino, alla sua vista, tirò fuori la pistola. Sparò quattro colpi al poliziotto il quale, nonostante i danni alle ossa, all'intestino e al fegato, lo affrontò fisicamente. Iniziò un scontro fisico. Gli altri agenti finalmente arrivarono e spararono quattro colpi a James, uccidendolo. L'agente ferito fu portato d'urgenza all'ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo sette ore di intervento chirurgico. L'incubo era finito.